Il primo grande evento live di Pesaro Capitale della Cultura 2024 è firmato Claudio Baglioni. Giovedì sera il famosissimo cantante ha iniziato dalla Vitrifrigo Arena di Pesaro il suo nuovo tour a tutto cuore. 25 tappe che più che concerti sono un rock opera show. Uno spettacolo grandioso quello di Baglioni nell'astronave che ha letteralmente preso il volo con il primo grande evento dal vivo dell'anno ospitando il cantante dei buoni sentimenti e una delle più grandi produzioni attualmente in giro per il paese. Ad accompagnare Claudio Baglioni sono stati 21 polistrumentisti della band orchestra e 80 tra coristi, ballerini e performer. Una serata resa magica grazie ai 38 successi senza tempo cantati a squarciagola dagli oltre 7000 fan presenti nel palasport pesarese. Quanto aspettava questo concerto? Da ormai 4 anni che manca qui. Qui sei terzo qui a Pesaro? Lui ha segnato tutto il nostro, la nostra storia d'amore da 37 anni. Canzone preferita? Ragazze dell'Est. Eh dai, ragazze dell'Est. Ma noi siamo stati dappertutto, siamo a Marta, in Sicilia, dappertutto. Non so, ormai... E delle fan svegatate? Sì, sì, da tantissimi anni. Canzone preferita? Pace. Sono emozionatissima e pronta a cantare. Quale canzone in particolare? Questa. Questa? Sì. Sia migliore perché domani tu sta facendo... Perché domani sia migliore, perché domani tu... Canzone preferita? Ma dove va? Non so... Mille giorni di chiedine. Mille giorni di chiedine. Quale? Ho prenotato il biglietto appena non sono uscita il calendario, ma io sono una fan, lo seco dappertutto. Avevo dieci anni che l'ho iniziata a seguire, quindi sì. Una super fan. Quanti concerti? Ventina. A dove venite? Allora, originale è casertana, però abitiamo a Osimo, quindi io siamo da Osimo. Abbiamo fatto subito, subito scuola, riunione e via. La canzone preferita? Qua tutte, però quella strada facendo. La cantiamo? Strada facendo vedrai che non sei qui da solo.